Pietro Antonio, De Pascalis, codice fiscale DPS, PRN 73S11F205W, Rosso, il mio cane Leo e la mia cagnolina Teresa, che si vinca o che si perda, forza Inter, Juve Merda, o Renato Zero, Milano e poi anche Parigi e Venezia, ma perché non li ho mai visti? Si chiama Gian Felice Facchetti, ma lui non lo sa, non ce l'ho, non ci sono migliori amiche. Sto facendo uno spettacolo che si chiama Cirano sulla Luna, uno spettacolo spaziale. Sono molto generoso, sono molto generoso. Una margherita, una zalea, una gerbera. Spero di morire nei prossimi 40 anni. Di venire a vedere Cirano sulla Luna qui al Teatro Litta fino all'11 febbraio, oppure, se non avete voglia, di andare a vedere Rosmer Solman Franco Parenti con Luca Micheletti e Federica Fracassi, sempre fino all'11 febbraio, oppure di andare a vedere tutti e due e non rompere le scatole.